parte regolare questa prima semifinale senior man ed è subito Belgio in prima posizione Belgio Francia in seconda Colombia leggermente attardata ma ovviamente sarà un'accelerazione in cui fa che lo porterà al ridosso della Francia intanto è Belgio French Colombia little gap with Colombia ed è ancora Belgio Francia Jason De Sousa adesso in prima e seconda posizione non cambiano le posizioni ancora Belgio Francia Colombia Spagna Portogallo ai meno tre ancora Belgio tira ancora l'atleta del Belgio Francia in seconda posizione ancora un piccolo gap per Colombia in terza si stanno giocando la finalissima ricordiamo il vincitore passa in finale più migliori dei sei tempi ancora ai meno due ed è adesso Germania all'interno per prendersi la posizione migliore ancora Belgio Francia adesso all'interno inside for take the lead for French and Colombia very overtaking inside overtaking for Colombia last lap last lap for the skater Colombia in acceleration and a little gap for Colombia French Argentina inside Germany 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 for position Colombia and France Germany one twenty four eight zero to the time of this semifinal uno ventiquattro e ottocentodue il tempo di chiusura di questa prima semifinale but we are just ready for the second one siamo pronti per la seconda che vede la partenza representing Belgium Bart swings eh il nostro Duccio Marsili and then representing Germany e il colombiano di Alemania Camilo Acosta again from Colombia Andres Jimenez from Chile Ugo Ramirez from France Ugo Moran from the United States of America and here we go here we go Andres Jimenez trying to push from from the beginning keeping the pace as high as possible keeping the pace as high as possible Ugo Ramirez then Bart swings and Duccio Marsili in fourth place it looks a little bit faster than the first one abbiamo detto prima la regola non scritta di allargarsi e poi accodarsi e tirare un giro ciascuno Ramirez Bart swings Duccio Marsili in terza posizione poi Andres Jimenez poi Camilo Acosta Ugo Moran prova anzi prova prova passare all'interno Rojas non ci riesce adesso e Bart swings davanti Bart swings e Duccio Marsili insieme con con Jimenez quando mancano due giri e ancora Bart swings sono passati in cinquanta cinquanta e zero sette il passaggio di Bart swings con Duccio Marsili dietro di lui poi Andres Jimenez che sembra controllare Bart swings e Duccio Marsili vanno a prendere la campana Bart swings Duccio Marsili Andres Jimenez poi Rojas Duccio davanti Duccio davanti e adesso spara tutto il nostro campione medaglia d'argento ieri Duccio 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 di diritto e uno ventidue ottocentosettanta quattro molto più veloce della prima Duccio in finale